Oggi siamo in un nuovo video su Rainbow Six Siege Libera Anche se ho la febbre a 38 e mezzo Io Questo e altro per voi Ragazzi Madonna Io ora prendo Abbandonano Le libere sono Cazzi Che non giocano seri Io spero che Vi piacciono questi video di Rainbow Lo so Che sto Livello basso 72 Non è tanto basso Però ci può stare Ci può stare Tipo Mi Mi amico è livello di quasi 100 Quello è un livello bello È un obiettivo per te capito Questo è il bello E ora E ora E ora faremo i culi E ora E ora Via Si comincia Ok Trovati ragazzi L'importante è che li ho trovati Ok ragazzi Hanno anche Frost Bellissimo Hanno anche Valchide Giusto? 10 secondi all'inserimento C'hanno capire Ancora 5 secondi Ok Tanti punti facili Raggiungete il contenitore Ok Io c'ho il mitraione Che cazzo fa questo? Ok 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 Io mi metto un attimo qua Un attimo solo Oddio aiuto Giusto no Ecco Ok 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 ragazzi Vediamo se Riesco a giocare Invece No Riesco Oddio no Solo in due No raga Ok Ok raga Ok Speriamo Oddio raga Sono nei guai Non ci credo raga Ci posso riuscire No Santa La devono fare santa Valkyria Guarda là Ma non mi ha manco Vabbè raga Quando Quando una partita Deve essere persa E' persa raga Non c'è niente da fare Ci mettiamo Ci mettiamo Caviglia Col pompone E' caviglia E' caviglia Ok Col pompone Ragazzi 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 Eccoci qua Con Caveira Con il mega Pompone Guardate quanto è grosso Allora Io non è che sono cattivo Ok Però io dico una cosa Quando la gente Non si muove A me mi da fastidio Ok Quindi ora lo shot Ok Ok raga L'ho dovuto ferire Sennò non si svegliava Questo Così non diventava Mongoloide Ok 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 Sennò non si svegliava Sennò non si svegliava Sennò non si svegliava mi fa piacere mi fa piacere che mi vengono da... là mi fa molto piacere che mi vengono da... no raga è impossibile è impossibile giocare è impossibile è impossibile giocare in questo modo cazzo raga non possiamo perdere così e no è uffi però è uffi non si può perdere così e io sai che dico mi rimetto lui dai che ce lo posso fare ragazzi dai dai io confido in me e in loro forse se sentite questo è normale il mio telefono la 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 ragazzi 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 speriamo che va bene ok raga speriamo adios speriamo adios oh mio dio fermi tutti mi è caduta la spalina oh mio dio oh e queste non iniziano però è dai no 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 ufff one more try one more try portrovate la posizione del contenitore di viorecchio Ragazzi Eee niente Spero che Oddio Sono deficiente Allora allora ragazzi Ragazzi Oh questi ci fanno il culetto A strisce No 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 Un attimo solo ragazzi Ecco qua Oh ma dove stanno questi Ok ho capito dove stanno Ok Ora possiamo farlo Abbiamo vinto Lo so lo so Che bello quando dobbiamo vincere Ok Ci mettiamo Stavolta ci mettiamo Bandit 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 ragazzi Ci mettiamo Bandit Allora c'è Io Bandit Frost Doc Kesto E Kapkan Ragazzi 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 Oh Ok Allora 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 Dai che ce la possiamo fare Ragazzi Dispositivo piazzato Ok sicuramente Due di loro Dovremmo riuscire a vincere E ora Challenge Con la pistola Ok 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 No Dovevo mutare un attimo Un unico No raga So coglione So coglione raga Io sono coglione Ho sbagliato Sì Questo che spara cazzo No Volevamo fare Tanto i figli Capito Ecco Ragazzi Moriremo Tutti Moriremo Tutti Moriremo Tutti Speriamo Speriamo Addio Speriamo Addio Speriamo Addio Dio 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 Oddio Ok ragazzi Vediamo Se Ci fanno Il culo O meno Yes Raga Yes Pensavo che era persa Allora Soltami To Twiz Però Col cecchino Più figo Allora C'è uno Che si chiama X H Klaus Uno Guala Boy E E Dottoni Figo E Dottoni Figo E Dottoni E Dottoni E Dottoni Magnifico Ce la possiamo fare Ragazzi Ce la possiamo Fare Ultimo round Chi vince Vince Ce la possiamo fare Forza Vincenzo E ora Punzecchio A tutti Ok Da palle Io sono Coppa Deve faccio Così Guarda Faccio 5 secondi All'inserimento Raggiungete La posizione Un attimo Solo Raga Ok Raga Volevo fare Una cosa Molto Figo Ok I Cartogesso Ce la possiamo Ok Lo stiamo Ponzicchiando Oh Non ci credo Raga Sì Raga Sì Raga Non ci credo Raga Non ci credo Raga L'ho ucciso Con il drone Di Twitch E abbiamo vinto Ragazzi Il video è finito Qua Se volete Cioè Se volete Un altro video Ditemelo E noi ci vediamo Al prossimo video Bella Voilà